Grazie. Intanto grazie dell'opportunità. Penso che Bologna e l'area metropolitana hanno una responsabilità che è data dalla sua condizione, dalla sua storia, dal tanto che rappresenta, anche qui sempre senza, diciamo così, fanfare, ma con grande realismo. Quindi c'è un capitale di sociale e anche di economia che permette di fare delle scelte, di immaginare delle scelte e direi che anche chiede perché cresca, per non perderlo, di guardare con sapienza, con intelligenza, con coraggio, concordo anche con creatività, al nostro futuro e d'accordo con il sindaco, sempre avendo molto presente l'Europa, io sono molto preoccupato che l'Europa non cresca, perché se non cresce, se restiamo in mezzo al guado, se è ma non è, torniamo indietro. Tanto crescono altre cose e se non si rafforza quell'elemento sovranazionale che permette poi all'Europa di essere un soggetto, diventa un condominio, poi probabilmente come spesso viene nei condomini, ci si fanno altre piccole regole, si cerca di vivere il più possibile autonomamente dal resto del condominio e questo non va bene. Abbiamo penso anche in questo una grande responsabilità. Le altre cose, l'economia per forza è al servizio delle persone e di per sé questo credo che Papa Francesco ci aiuta in maniera direi molto insistente nel riaffermare che l'economia non può che non essere sociale, non può non avere al centro le persone e lo riafferma e lo riaffermiamo perché poi spesso non è così. Dovremmo fare tesoro anche di tanti problemi emersi in passato di quando l'economia era indipendente, poi il sociale qualche volta diventava addirittura un freno oppure una tassa da pagare, cerchiamo di pagarla il meno possibile perché l'economia poi ha una geometria di crescita che richiede anche qualche sacrificio agli altri che però in realtà ha significato un'economia pericolosissima. La città è molto importante, io condivido anche perché la città e l'area metropolitana permette di misurare che cosa significa, di misurarlo capendo la storia, capendo le particolarità, misurandolo sulla realtà. Qualche volta diciamo questo può diventare il campanilismo, cioè il rischio della chiusura, piccolo e meglio, che è sempre senza futuro, è sempre un po' pigro, un po' da vecchia anche, un pochino. Ma se non c'è il piccolo, se non c'è la città, se non c'è una dimensione nella quale ti misuri, ti perdi. Ecco, per cui credo davvero che il discorso della città e qui significa anche un'economia comunitaria, anche che riequilibra parecchie disuguaglianze che purtroppo le quali non possiamo mai abituarci. Penso che un'economia sociale che sia al servizio della persona, per esempio, deve anche avere molto presente il discorso della casa, decisivo, per quel discorso che va unito, natalità e accoglienza. Vanno uniti, c'è niente da fare. E l'economia non può che non essere per la natalità e per l'accoglienza. Prima il sindaco si domandava del perché, no? Forse sarà perché io e lui ci siamo fatti una bella seduta analitica, forse ci portiamo un po' di perché, eccetera. Siamo passati indenni tutti e due, cioè è andata, diciamo così. Però la domanda è molto giusta, eh. Poi il perché è anche sempre il per chi. Credo che quando lui accennava il corso dei fichi, quando accennava, lo faccio per qualcuno e nella città lo misuro, no? E anche per quelli che ancora non ci sono, per quelli che domandano spazio, che possono riempire tanti spazi vuoti. Per esempio, che cosa significa nelle aree interne il discorso della natalità e dell'accoglienza? Come il vero futuro? Perché l'economia ci possa essere? Perché altrimenti, credo, forse lo dirà l'assessore Golla, il problema della mano d'opera è un problema decisivo. Quando una delle ultime, forse l'ultima volta che ci siamo trovati con l'assessore Golla era con la CNA e a me ha colpito tantissimo che la CNA dell'Emilia Romagna vuole aprire una scuola professionale in Tunisia. Io lo trovo, questo sì, che può provare a guardare così, uscendo dal piccolo, no? Ma potrebbe avere un valore, una ricaduta. Ecco, penso che appunto sia davvero questa visione quella che ci è chiesta, l'ultima cosa a tanti soggetti. Per Francesco la sua categoria è quella dei movimenti popolari, insieme agli altri soggetti istituzionali. Credo che, per esempio, possano raccogliere anche le tante esperienze di terzo settore, di volontariato, di movimento cooperativo, in senso anche più largo, che rendono possibile che l'economia al servizio delle persone possano a sua volta aiutare e sviluppare. Ecco, per questo credo che questa riflessione in un momento così decisivo, ovviamente, di scelte, mi sono dimenticato l'invecchiamento. L'invecchiamento richiede un'economia, ci devi mettere i soldi, eh? Cioè, se tu vuoi fare assistenza domiciliare, e dobbiamo fare assistenza domiciliare, nel senso di garantire perché non ci sia soltanto ricovero, perché le condizioni siano... Però deve essere possibile, questo richiede una scelta economica, non c'è niente importante, e credo che questo anche, forse anche una città come Bologna, ha anche gli strumenti per, come è stato in passato, per fare degli inizi, penso per esempio alla riforma sanitaria, forse potrebbe essere anche uno dei terreni in cui misurare la possibilità e la convenienza di affrontare l'invecchiamento con una qualità di servizi rinnovati, che siano davvero all'altezza della risposta necessaria che dobbiamo dare. L'ultimissima cosa, poi un piccolissimo ricordo, è sul ricorso delle mafie. Io credo che non dobbiamo mai sottostimare che se l'economia funziona, e funziona con, al servizio delle persone, e funziona con l'economia sociale, diciamo le economie parallele o quelle che privatizzano sono molto più ridotte. e siccome credo che non dobbiamo affatto sottostimare il pericolo, l'inquinamento di tanti interessi, diciamo così, oscuri o di vari tipi di mafie, penso che è un motivo in più per scegliere, per che l'economia sia davvero al servizio delle persone. Il piccolissimo ricordo è per Flavia Franzoni, che penso che ha sempre avuto nel cuore sia l'economia, sia tanto anche il sociale, ha saputo sempre aiutarci a coniugare le due cose, e a ricordare l'uno all'altro, e quindi la ricordiamo con molto affetto e con molta riconoscenza.